L'ultima monografia promossa dall'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, presenta tra gli altri anche i contributi di Don Bruno Lancuba e di padre Vincenzo Ippolito, biblisti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, di cui Don Bruno Lancuba è anche il direttore. L'opera, curata tra gli altri dalla teologa Lorella Parente, anche lei docente presso l'Istituto San Matteo, si avvale di alcune delle firme più prestigiose nel panorama biblico nazionale. Il tema della monografia è il discepolato nel Vangelo secondo Matteo, testi, analisi, interpretazioni, e si inserisce in un cammino promosso dall'Associazione Svizzera per favorire la lettura e lo studio della Bibbia in ambito ecumenico. L'ABSI, infatti, è stata fondata a Lugano il 15 gennaio del 2003 ed è sostenuta da istituzioni ecclesiali e culturali operanti nel territorio della Svizzera italiana, in particolare sul fronte della formazione biblica. La pubblicazione edita nel mese di aprile, curata da Ernesto Borghi, da Gaetano Di Palma e da Lorella Parente, si avvale dei contributi di Vincenzo Ippolito, Bruno Lancuba, Lidia Maggi e Angelo Regginato. A conferma di una sinergia accademica che vede sempre più coinvolto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e impegnato nella formazione degli operatori pastorali e dei futuri insegnanti di religione operanti su tutto il territorio della provincia di Salerno.